Guarda che secondo me si può fare anche un bel programma dove si coinvolgono le persone anche a ricordare queste cose e facci accompagnare dalla musica e dalle testimonianze delle persone per ripercorrere un periodo dove in realtà esisteva questo sapore e questo odore meraviglioso della libertà. Ecco, io credo che se i giovani potessero assaggiare un minimo di quello che c'è adesso, poi tra l'altro all'epoca si facevano anche delle cose. La questione sui giovani, io ho ascoltato tutto il vostro discorso, i giovani vanno salvati perché il giovane è ribelle per natura, non esiste il giovane che è stordito, il giovane se è giovane è ribelle. E lo era cento anni fa, lo è ancora oggi. Ma è ribelle su altre cose, non sui propri diritti perché oggi non mi è sembrato di vedere ribellioni. Oggi mi permetto di dissentire perché oggi la ribellione è intesa come ubriacarsi, prendere delle droghe, quella è intesa come ribellione che è la più grande cagata che c'è. Vedi, se noi facessi un programma radiofonico in questo momento, tu hai nominato i Clash, io prenderei White Riot dei Clash e farai ascoltare White Riot. Perché? Perché è ribellione, cioè la rivoluzione che ci fu al carnevale di Nottingham. Però Red, tu stai nominando figure che con la droga e con l'alcol ci andavano a nozze. Hai parlato dei Clash, ma possiamo nominare... Quando fece articolare liberamente la droga per cancellare un'intera generazione ribella, ma andiamo avanti. Bravo, bravo. Ecco, allora, tu però così mi stimoli perché questi sono i discorsi che oggi i giovani vorrebbero sentire. No, è vero, oggi, oggi, stiamo zitti per adesso, silenzio, allora, oggi, caro Francesco, c'è invece la spinta alla resilienza, questa parola orrenda che dovrebbe servire solo in alcuni casi rari, ma lascia stare sta puttanata, a quest'altro debito che ci stiamo accollando forzosamente. Tanto nelle prossime settimane io intervisterò un sacco di gente, compresi anche presidi di scuole, eccetera, che ci racconteranno che gli stanno imponendo di spendere soldi che loro non vogliono spendere perché non ci fanno nulla, ma il Ministero gli dice li devi spendere per forza, perché? E certo, per farci indebitare a tutti. Eh, capito? No, però Red, voglio dire, noi abbiamo fatto un percorso, no? Ecco, tanto per chiudere, abbiamo un minuto e mezzo, due minuti, ma per chiudere voglio dirti, noi abbiamo questo spirito, questo spirito che non vuole, ecco, la resilienza quella forzata, come non vuole il PNRR forzato, che vuole una ribellione, una sana ribellione. Certo, la ribellione di oggi rispetto a quella degli anni 60-70 avrebbe dovuto migliorare, avrebbe dovuto evolversi, e invece sei involuta, al contrario, e questo è l'argomento di discussione. Però ti voglio chiedere, noi abbiamo lottato quattro anni, tu hai rimesso, l'abbiamo detto, sponsor, anche, voglio dire, molte persone... Guarda, ieri abbiamo trasmesso una cosa che, se la vai a rivedere, ti incazzi anche te, dove venivi preso per scemo da testa vuota, da un pseudo comico, insieme a Gramellini su Rai 3, abbiamo trasmesso una delle tante nefandezze, nefandezze, che ha trasmesso la Rai, pagata con i nostri soldi, contro quelli che loro chiamavano Novax, che oggi invece, sembra che non solo avevamo ragione, ma che questa legge sia stata una mega truffa, perché ci obbligava a fare un qualcosa per un farmaco che neanche esisteva in commercio, pensate un po', noi dovevamo proteggerci, come diceva la legge, prevenire l'infezione del SARS-CoV-2, e oggi l'AIFA ci dice che non esiste un farmaco che fa questo, pensa, ancora oggi. E questo è l'argomento da discutere da qui in avanti, perché una legge inapplicata, inapplicabile, che poi ti forzano invece a farti un altro farmaco che non c'entra niente, se no non vai a lavorare. Secondo te, noi abbiamo fatto una battaglia per difendere i nostri concittadini, lo hai fatto anche te, ecco, riusciremo a vedere probabilmente un risultato per i nostri concittadini, perché comunque noi, sì, ci ha toccato, ci ha fatto un sacco di danni, eccetera, ma tanta gente l'ha devastata. Riusciremo con la nostra capacità di fare comunicazione. Te lo dico in breve. Noi abbiamo contribuito a salvare tante persone che erano indecise e che hanno trovato nella nostra comunicazione lo spunto per imporsi e per decidere di non cedere a un ricatto. Un ricatto che, purtroppo, chi ha ceduto convinto o chi ha ceduto perché è ricattato, perdeva il lavoro, eccetera, oggi paga molto pesantemente. Perché? Perché, come diceva Montagnemi, ricordavi tu nella conversazione che vedremo stasera, che questa puntura avrebbe risvegliato tumori dormienti, creato nuovi tumori, creato problemi, purtroppo si sta verificando. I medici non raccontano la verità oggi e non possono raccontarla perché altrimenti vengono radiati, ma gli effetti collaterali sono tremendi. Ci sono dei medici che sono disperati perché non riescono, cioè ci rendono conto dei danni che ha fatto la puntura in maniera incredibile. Ciò che abbiamo fatto, Fabio, è servito perché molti si sono salvati, molti, tanti hanno detto se tornerà il vaiolo delle scimmie la terapia sarà due banane e vigila attesa, poi le banale te le metti dove ti dico io e quindi questo è la realtà. Quindi ciò che noi, noi raccontiamo la verità. Attenzione, non abbiamo la presunzione di saperla, però ti diamo l'opportunità di ascoltare. Dopodiché, non come si fa la TV. Perché la TV ha perso audience? Perché in TV là sono aperti i microfoni, poi parla uno come Vani Fraiese che è preparato e di fronte c'è, che ne so, il pavoncello, c'è chi paone che non è vero! Oppure quell'altra roba e uno non riesce a parlare. Infatti chi ha assistito all'intervista che ho fatto a Vani Fraiese che è durato due ore mi hanno detto per la prima volta ti abbiamo sentito parlare. Perché? Perché noi abbiamo fatto parlare le persone.